Italtrans è un'azienda che da 40 anni lavora nel settore del trasporto e della logistica e da sempre crede nell'innovazione. Per noi innovazione significa poter rispondere alle esigenze di mercato, anzi direi forse anticiparle. Abbiamo scelto questa immagine in quanto per noi rappresenta il connubio tra interconnessione digitale e il miglioramento delle condizioni di lavoro delle persone. È un impianto che abbiamo installato nel nostro magazzino di calcio e in questo impianto c'è un sistema gestionale che fa lavorare dei robot antropomorfi che prelevano colli di bevande e contemporaneamente anche questi veicoli laser guidati. L'installazione di questo impianto ha evitato alle persone che lavorano nei nostri depositi di movimentare manualmente, lo scorso anno, circa 75 milioni di chili. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!